Ciao, sono Lillo, ecco bella rige marina, il luogo dove ogni momento diventa un'emozione. E adesso andiamo a fare un salto al mare, guarda che bella la nostra spiaggia. Bell'aria Igea Marina ti offre una spiaggia sicura, spaziosa, con sabbia finissima ed un mare tranquillo e di grande qualità, certificata dalla nostra bandiera blu. Qui la famiglia vive in serenità le proprie vacanze, una costa sabbiosa, ideale per i bambini, con il servizio di salvataggio per tutta la giornata e tantissime iniziative per regalare momenti di puro divertimento. Che spazio stare tutto il giorno in spiaggia, ci sono mille cose da fare. A Bell'aria Igea Marina, con i Family Hotel, ogni bimbo in spiaggia trova la sua dimensione, scoprendo tra le tante proposte quelle più divertenti, per poi portare a casa l'emozione di una fantastica estate da ricordare per sempre. Anche per i genitori, perché se si divertono i più piccoli, si divertono tutti. Ehi, prima di partire, i miei amici dei Family Hotel di Bell'aria Igea Marina ti ricordano come il servizio a disposizione di tutta la famiglia. Vai in un Family Hotel, zero pensieri! Da noi trovi passeggini, seggioloni, scalda biberon, spondine per il letto, biciclette con seggiolino e tutto quello che ti serve per vivere in completa serenità la tua vacanza con i tuoi bambini. Nei Family Hotel tutta la famiglia deve pensare solo a divertirsi. Sì, hai capito bene, da noi è tutto su misura per la famiglia, per vivere la vacanza in totale serenità. E vai! Così si diverte tutta la famiglia! Allora, cosa aspettate? Meglio di così, io vi aspetto a Bell'aria Igea Marina!